Eh, ma di nuovo l'ombra, vai? Ma no, proviamo. Perché quell'ombra? Ti sposto in più in avanti sino ad adivinare. E ho capito, ma se vado in avanti poi non mi copre e devo spingere indietro il coso. Eh, mannaggia. Come fezca? Non entra se l'ha capito. Che è così, è troppo stretto dietro. Allora, cominciamo con lo problema di prema. Così, dai, così. Sì, ma mi vedi i capelli avanti qua? Io vedo come si fanno ombri i capelli. Eh, cosa vedi tu? No, vedo i capelli, vedo bene, prima vedo più ombri. Eh, 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 ora sta bene, ora sta bene. Muovi un po' la faccia verso destra, però. Verso destra? Sì, sì, come stai facendo? Sì, così. Vabbè, tu devi considerare che da qua mi ripena, non da là, eh, quindi non sai tu. No. Vedi, si abbassa sto capello qua. No, ma però che viene a fare qua, che io mi devo registrare? Che c'è, ma? Ti fa ombra. Qua. Infatti, che è quella? Aspetta, se mi metto così? È così? Sta meglio. Sì, sta meglio. Eh, allora faccio così, va. Eh, ma dove spostare questa? Fuuuuh.